Mezzo secolo di storia del fotoclub La Chimera raccontato attraverso gli scatti dei soci è infatti il circolo artistico ad ospitare la collettiva del 50esimo anno iniziativa per festeggiare l'importante traguardo raggiunto dal fotoclub Aretino Conclude questo anno molto faticoso, molto lungo del 50esimo compleanno del fotoclub La Chimera è stato un anno importante, impegnativo, ricordo una cosa a quale tengo particolarmente abbiamo fatto anche il restauro completo della nostra sede che è diventato il Chimera Fotogallery a disposizione anche non soltanto dei soci ma anche di chi volesse esporre fotografie e non sia socio del fotoclub e poi tante altre mostre, non sto a elencare perché sono tante, anche ora in questo momento ne abbiamo una su Alphotoclub contemporanea a questa che chiuderà per la Befana che è la mostra del nostro socio storico Lorenzo Mazzeschi questa è una grande festa, c'è una grande partecipazione sono più oltre 140 fotografie io sono molto soddisfatto anche proprio della risposta che hanno dato i soci e d'altra parte noi abbiamo fatto anche un'altra cosa che qui non figura ma ci tengo molto a dirla abbiamo incrementato l'archivio di altre 80 fotografie proprio per chiudere in bellezza quest'anno in questo momento chi si diverte a navigare nella strada Rezzo può trovare 2.921 fotografie nel sito www.archiviostorico.it andate a vederlo perché ci saranno cose molto interessanti l'esposizione sarà visitabile fino al prossimo 30 dicembre